Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi quarto giorno di allenamento. Ragazzi oggi alleneremo gambe addominali. Ovviamente ragazzi, come in ogni video, ci pesiamo. Nuovo peso, 56 kg, 800 grammi ragazzi. Ragazzi partiamo con il primo esercizio faremo squat con 30 kg. Ragazzi, benvenuti in ripetizione. Direi di partire subito con la prima serie. La prima serie è andata perfettamente. 30 kg. Leggeri, vengi ripetizioni volate. Adesso questo è con la seconda serie. Non dico la seconda serie. Ok, fatto anche la seconda serie. Adesso passiamo alla terza. Terza serie, 10 reps, 50 kg. Ok ragazzi, cominciamo a diventare pesanduccia. Ora abbiamo l'ultima serie, 60 kg. Quarta serie, 60 kg. Come potete vedere il bilancio è carichissimo. Proveremo a fare 5 ripetizioni ma speriamo di farcela. Altrimenti caderemo per terra. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non è stato nemmeno tantissimo duro però le gambe bruciano. Ci vediamo al secondo esercizio. Ragazzi, siamo qui. Squat bulgero, ovviamente. L'esercizio è bellissimo. Faremo 4 serie per 8 ripetizioni. Voi ovviamente vedrete solo una serie. Devevi cominciare. Ok ragazzi. Prima serie fatta. Ovviamente c'è l'esercizio che ci specializziamo anche andiamo per terra. Però va bene. Ci vediamo direttamente al prossimo esercizio. Eccoci qua. Ultimo esercizio per 4 cipidi. Per noi abbiamo leg e stage caricata con 40 kg. Faremo 4 serie per 10 ripetizioni. Ok ragazzi. Prima serie andata. Abbastanza faticosa. Noi ragazzi ci vediamo con il prossimo esercizio. Ragazzi. Quarto esercizio. Abbiamo leg e calmo. Faremo anche qui 4 serie per 15 ripetizioni. Ovviamente il peso scalato. Passiamo da 40 kg a 25 kg. Ok ragazzi. Prima serie fatta. Ovviamente io vi farò un gatto a 3 serie. E noi ci vediamo con gli addominali. Ragazzi. Ultimo esercizio per le gambe. Colpaccio. Ovviamente ragazzi. Faremo 3 serie per 15 ripetizioni con 50 kg. Quella è il bilanciere ragazzi. Niente. Faremo 3 serie e ci vediamo al colpaccio. Adesso faremo un esercizio. Faremo il handset up. Faremo 3 serie per ben di ripetizioni. Ovviamente ragazzi. Voi vedrete solo una serie. Io metterò le altre serie. E ci vediamo con gli addominali. Ok ragazzi. Siamo qui con gli addominali. Adesso faremo. Come primo esercizio. Faremo il handset up. Faremo tre serie per 20 ripeticioni. Ok ragazzi, prima serie fatta, ci vediamo con la seconda. Prima serie. Ragazzi, prima di ripetici le parti, si è staccato anche il coso, va bene così. Nel frattempo lo rimontiamo. Ok ragazzi, primo esercizio fatto, adesso passiamo come secondo esercizio, addominali laterali, facciamo il dicipetto. E ragazzi, 20 secondi recuperati, secondo esercizio. Prima serie fatta, faremo tre serie da 15 ripeticioni per lato. 10 dei ponti e si va con le 3 ponti. Grazie. Ragazzi. E' di buonissimo, poco recupero, si sente ancora di più. ragazzi questo è pesata tantissimo si è sentita un botto ma ce l'abbiamo fatta ovviamente adesso 20 secondi si recupera e passiamo all'ultimo esercizio come ultimo esercizio faremo i reverse, caldo, certo io con quanto c'è da dire reverse caldo dico crunch vabbè non ci fate caso reverse crunch ragazzi faremo tre serie per 15 20 ripetizioni grazie per aver guardato il video I'm so late Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Now it's like, this is the perfect time And you know the moment You're like with the same track Listen all night in the sheets all black I'm falling fast, don't remember life But for you that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait My first time, my first day Ragazzi, terza serie mortale, mi assicuro che con un po' di recupero, ma anche una fatica assurda, ragazzi questo video è finito qui, questo allenamento, noi ci rivediamo lunedì con la seconda settimana di allenamento. Bene ragazzi.